Il coronavirus ha modificato e complicato la vita e la gestione del quotidiano a tutti, soprattutto in Lombardia. Risentirne moltissimo, manco dirlo, è stato anche il traffico ferroviario che già di suo non viveva un momento esaltante da mai. La settimana appena conclusasi però in seguito alle misure attuate per affrontare l'emergenza sanitaria ha registrato un calo dell'affluenza del 60% sui treni della Lombardia, da 820.000 a 350.000 passeggeri in un giorno feriale a causa della sospensione delle attività di Atenei, scuole e diverse imprese. Questa settimana più o meno ci si aspetta la stessa tendenza, considerando che è stata confermata la riduzione del servizio Trenord che riguarda l'8% delle 2.300 corse programmate. In Lombardia circoleranno 2.100 treni. Tutte le informazioni sui provvedimenti sono disponibili comunque sul sito trenord.it e sull'app Trenord. In adempimento di quanto previsto dall'ordinanza regionale prosegue la sospensione delle fermate di Codogno, Maleo, Casalpusterlengo. I treni della linea Milano-Piacenza non effettuano fermata a Codogno e Casalpusterlengo. I treni della Mantova-Cremora-Milano non fermano a Codogno. Dando seguito alle disposizioni delle autorità sanitarie, Trenord ha messo in atto inoltre le opportune misure precauzionali per la tutela dei passeggeri e del personale. I convogli sono sottoposti ad operazioni di sanificazione che sono svolte di notte.